Oggi tunisiani siamo in questo nuovo video e oggi giocheremo a Piggy, anche se l'hanno portato altre persone Però, allora noi prima di tutto facciamo la casa, quella più brutta Dov'è quella più brutta? Sì, infatti No, come la casa? No, la casa è più bella Quella più... No, vabbè, facciamo per ora la casa 1 Eh, ti è più semplice Non si capisce niente di quello che dite, parlate forte Gian Giuberto Non c'è Nightmare Non c'è... Ah, come mai non c'è Nightmare? Eh, l'hanno tolta L'hanno sostituita con la 12 Ah, giusto, giusto Perché adesso c'è il nuovo finale Fateci sapere se volete che noi vediamo il nuovo finale della 12 oppure no Eh? Fatecelo sapere, tu iniziano È Denis Anche se però non ho un mostro Oggi ci siamo Eccoci qua Dove siete? Vi devo sculacciare Cosa? Cosa? Ma? No, no Stati iniziano con le trappole Stati iniziano con le trappole Vieni qua che ti devo sculacciare, Gabri No, no, sculacciare anche no Gabri, fatti sculacciare Esatto Si fa sculacciare Angelo Si fa sculacciare Angelo Si fa sculacciare Angelo No Vieni qua Vieni qua Mi è piaciuta Vieni qua Ah Vieni... Ah Alla fine si è fatta sculacciare Chiara Vieni qua, Angelo, sì Dove sei? Facciamo notte, te lo dico Facciamo notte Ah no, non possiamo far notte perché sennò poi Duny si arrabbia Si arrabbia Venite qua Venite Si Oddio Cos'è? Ah no, stai schippando le trappole? Come ti permetti? Brutto Ah Gabri, vado da Gabri No Vieni qua Gabri, Gabri fai schifo Vieni qua Sai che alla fine andrà a finire così Andrà a finire così Non sei sopra Come mai? Non andare sopra perché scendono dal buco Ah beh giusto, giusto Hai pure tu ragione Chiara Chiara mi aiuterà Brava Chiara Sì esatto Chiara fa sculacciare No, no, sta dalla mia parte Brava Chiara Ma E Gabri vieni qua No Vieni qua Sì Sai che alla fine non potrai completare questa mappa Perché tanto dovrai per forza morire No, no La voglio completare La voglio completare La vuoi completare Sì, sì Bene Allora Ah comunque domenica mi arriverà il microfono tunisiani Pensate un po' Eh che bello Quindi si sentirà molto meglio Che stifo Vieni qua Vieni Gabri Gabri Vieni subito qua Vieni qua Oddio Vieni qua Ho detto vieni qua No Gabri Il bello è che i vicini mi uccideranno Secondo me prima o poi Esatto Vabbè Guarda c'è Angelo Cioè devi prendere Angelo No non prendo Angelo Perché No No È stato bello Ed è emozionante Prendere Gabri Oddio Angelo Angelo Dove sei Ora ti arriva da dietro Esatto Chiara dimmi un po' tu dove sta Angelo Chiara dai no Chiara se fai lo scopo No Chiara non fa lo scopo Dove sta Angelo Non dico niente a nessuno Mi dispiace No 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 Sono le regole del video Dai forza Dove sta Angelo È in un bel posto Anzi per ora non vi obbligo a dire Però Però più in là se non lo trovo dovrai dire Allora Ok Ok È schifo Per ora lo troverò da solo questo Angelo 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 La pesca Eh No 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 Ok Ok Allora Gabri se parli addosso Sia Chiara sia alle cose Si capisce che niente Si capisce E poi comunque il copyright di sto cavolo Eh Sì sì Quante sa gente Quante sa gente No va bene Adesso ammazzo Gabri Che ho bando dal video No Sì Ok ho visto Lo sapevo Lo sapevo Brutto Sporco Zuzzone Con la skin Tutto da Come si chiama Tipo dai Bistre Qui c'è una Si Eh però Sei sporco Allo stesso tempo Zuzzone Perché Perché guardalo Allora se andiamo avanti e indietro così Fino a domani mattina Non va bene Quindi Guardalo Alla fine niente Alla fine vabbè Allora vado con Con sta qua Ah Eh beh 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 sicuramente qua ho preso tanto tempo però Che schifo Eh brutto schifo io devo piazzare le trappole mi devo ricordare Sì Dio santo Eh dios Non si dice Non si dice No Meglio che non si Eh Meglio di no Ok 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 Allora Angelo Facciamo un patto Tu muori E io non ti sgrido E io non ti sgrido Ma No 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 Non si No 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 Come sta Guardate Piggy come si sta facendo tutta quanta strana, tutta quanta brrr, esatto, forza sto Piggy che non si muove perché l'ha addormentato con i sonniferi, con le cose brutte che non si possono dire, con le sostanze, allora Chiara è arrivato il tuo turno, dimmi dove sta Angelo vai. Allora Angelo si sta recando a prendere la pistola, no ce l'ha già la pistola, alla pistola la dispara. No, Angelo, che schifo, no vabbè io, come faccio a non, come si fa a non barnare una persona così? Di barnare, l'ho usata io quella, cretino, cretina, esatto, molto cretino, vai, continua ad insultarlo Chiara, per questo è il permesso. Dubido Angelo, esatto, che schifo, dove sta? Puh Angelo, sta sotto, sta sotto eh, però non è che devi dare il tuo turno, no sì 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 Angelo e tu non puoi dire niente. Ah vabbè, va bene, va bene, ma, ah eccolo qua, no no no, sei falso, si fa eh, vieni qua Angelo, mannaggia Gian Giuberti. Ah sì ne avevo, no io ti giuro lo sto odiando. Io evito, io pure evito però eh. Eh beh beh beh, adesso Angelo, adesso Angelo per regola del video di Dunis, verrai qua sotto e ti farai uccidere. No, no, perché sono quasi alla fine della mafia. Sì sì, eh no, no, non puoi vincere, non puoi vincere quando non c'è Dunis, se no poi dopo il tempo, no, non puoi vincere, assolutamente no. Non è fattibile. Non è fattibile, deve vincere quando c'è Dunis. Non riesce manca a prendere la chiave. Ok, perfetto, allora. No, io sono giocato. Dove sei? È sotto, è sotto, ho sotto mano troppo sotto. Ok, ho capito, Chiara, brava. Qui, è qui, è qui. Ah, 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 ah. È cucina, è sala, è divano. Sì. Non vale, quella mazza mi raggiunga. Eh sì sì sì, ti raggiungo. No, no, Angelo, ah, che schifo. Cosa? Che schifo. Brava, Angela Pesca. No, io non ci posso credere che mi ha disobbidito però. Eh, ho disobbidito, sono cattivo. È un po' cattivo, sì. Devo dire che fa schifo, io non me l'aspettavo. Io pensavo, pensavo, pensavo che ascoltasse, invece no. Invece ha dimostrato che fa schifo, fino in fondo. Dunisiani, tutti quanti abbiamo visto che Angelo fa schifo, scrivete Angelo fa schifo nei commenti. Allora. Esatto. Esatto. Allora, adesso. Quale mappa arriverà e quale mappa sceglierà e quale mappa sarà ad essere in questo video? Che stai dicendo? Allora. Facciamo la foresta, la foresta. No, adesso facciamo, facciamo la chapter 12 perché è difficilissima. Ma serio? Ma no, lui, no, non me la voglio spoilerare. E invece sì, invece sì perché dobbiamo includerla nel videotitolo. Tanto, non ve lo dico come si fa il finale. Non ci interessa infatti, brutta ciota. No, ciò. Allora, votate tre ovviamente tutti quanti perché chi è che non ha votato player? Chi è stato quel cretino che non è pronto alle sorti di Dunis? Tu. Ma, no, non penso proprio di essere io. Ti immagini che poi alla fine faccio tutte queste robe e poi sono io. Chi è chi? Ah, è chi è chi? Ah, è chi è chi? Ah. Io è la patata, ora siamo. Cosa? Tu hai la patata? No, è la patata. È la patata. Molto bello. Allora, vediamo. Qua dice, spero di essere da solo. Tu sei solo un sudborn quando ha trovato la mia cosa. Non so cosa sei. Va, ma questo time sarò stop you e ti fermerò con le mie forze, capito? Avete capito? Che stai dicendo, Dani? Ma così, sicuro. Ma io mi sono rotta, no? Ok, sì. Come ti sei rotta. Chiara, non ti rompere perché sennò fai schifo. Allora, allora. Ehi, io sono un piccolo. Prima di tutto ricordatevi che questo è un video di Dunis, quindi. Chi è morto? Io. Fabri. Molto bravo, molto wow. No, ma non pensavo che mi ammazzava. No, se ti avvicina la patata. Ammazzava. La patata. La pazzata uccide, sì. Sì, la pazzata. La pazzata. Sì, sicuramente. Oh, ma io ho la chiave verde. Allora, vai, vai la chiave verde. Vai la chiave verde. Ok, vai. Ma no, c'è il picchi più bello. Il picchi più bello di Dunis. No, allora, prima di tutto, Chiara, stai zitta perché sennò ti metti la patata nel sedere. Fa male quella. Ah, ho trovato una chiave blu che ora userò affinché le mie doti da maestro vengano spoilerate. Forza! Ho trovato... Ah, qua si utilizza, mi sa, la chiave cosa. Ok, ho capito, ho capito. Chi c'è qua? Help me. Ma Angelo, tu dov'è che sei? No, c'è chi era da me. Dimmi del minuto. C'è chi era da te. La patata. Interessante. Cosa fa con questa patata? No, la patata mi spinge! Ah! Come funziona questa storia? Sì. Ma boh, io ho scioccato veramente. Boh, vabbè, allora, io sto aprendo intanto le porte, Angelo, tu sappi questo. Ho trovato una batteria. Dove si usa la batteria? Ah, sì, sì, sì. Mettila dove c'è il coso verde. Eh, la cassa chiusa. C'è una cassa chiusa. C'è una cassa chiusa. Devi andarla a metterla là. Sì, c'è una cassa chiusa dove va aperta con le pile. Eh, ok. Ah! No, aspetta. Forse non. No, 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 no. Non sto trovando questa cassa verde. Questa cassa chiusa, volevo dire. Che va aperta con le pile. Però forse qua sarà questa la cassa chiusa? Negli anni non si sa perché io a questa mappa non ci ho giocato. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Però loro ci hanno giocato perché fanno schifo, perché giocano tutto il tempo e hanno tempo di giocare perché non fanno niente la mattina e la sera. Eh? Hai visto? Siamo affaticati. Noi qui giochiamo al computer. Sì, è stata a scorreggere tutto il giorno. Ma allora. No, Gia, allora, Chiara però fa la schifo. Ah, fa la schifo. Mi ho passato la patata dietro e mi ha ucciso. Cos'è che sta facendo? Chiara fa la schifo però, Denis, bannala. La banno dal tuo serve. Sto a ferma la porta. No, mi sto muovendo avanti e indietro. Chiara, stai ferma la porta. Chiara, stai ferma la porta. Sto a ferma la porta. Sto a ferma avanti e indietro. Beh, sentito, no? Stanno facendo avanti e indietro. Forza. Però, allora, prima di tutto, prima di tutto, silence se non siete nel video. Mi raccomando, come al solito. Chiara, sposto, dita qui, se no ti banno dalla vita. La sto rincorrendo io, no? Però se la rincorro poi mi mangia il mostro. È brutta. Chiara, se mi prendevi. Sei cagato. Eh, un pochino. Un pochino. Però dove? Ah, sta batteria dove la dovevo mettere? Non ditemi in quel posto perché se no... Eh. Eh. Allora, questa cassa non la trovo. Angelo, allora, silenzio tutti. Porco. Eh, non si dice. Nemmeno porco. Quel porco di Piggy. Scagazza. Cosa? La scagata. La scagata, vabbè. Eh, non so. Allora, Denis, 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 vai sopra. Pieni la batteria, pieni la batteria. Ok, ok, prendo la batteria, vado sopra. Ok, vai sopra. Ok, sopra, 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 sopra. Stanno sopra. Vai. Ok, c'è una chiave blu. Attento. Oddio, attento. Ok, sto attento. Hai visto nella stanza dove sei passato poco fa? Quella dritta per dritta. Tu devi andare là dentro e inserire le pile. Porca sbascuccia! No, che era! No, che era! No, dai! Mi spiace, l'ultimo rimasto. Eh. Della tua stirpe. Della mia stirpe. Sì, perché ovviamente noi siamo una stirpe di tunisiani. Però non è vero, non sono l'ultimo. Sono l'ultimo solo in questo gioco, mi spiace. Invece là fuori ne siamo tre miliardi. Proprio una cosa, mamma mia. Allora, mi spiace per non aver vinto questo round. Oddio! Per ora stai zitta. Ora ci rivediamo al prossimo. Via, cerca di fermarla. Cerca di fermarla, guarda, vai là. Bravo, bravo, bravo. Così ti voglio. Ok, perfetto. Mettiamola qua. Eh, esplode! Loretty, dietro front, amici! Ok, è tutto. C'è tutta una musica. Allora, qui devi fare le mappe. Le mappe? Ok, allora, Chiara. Sì. Sono tutto adrenalizzato. Forza. Sì, ma la patata esploda, ok. Eh beh, la patata, si sa, è scema. Vediamo, io sono tutto quanto... Mamma mia. No, Gabri, no, no, Gabri, no. Gabri, cosa stai facendo, Gabri? Ma cosa devo fare? Devi fare, vai a bloccare la patata, come ti ho detto. E come la blocco. Blocca la cerca di bloccare... Chiara, 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 Chiara. Ok, vabbè, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli, perché sennò... Allora, io ti seguo, perché io non so dove cosa devo prendere. Perché voi ci avete già giocato. Tu mi dici che c'era la patata. Vai, tu prendi la chiave. La chiave dove? Ah, ok, qua. Qui, qui. Perfetto. Ma tu sai tutto quanto perfettamente? Sì. Ok, perfetto, allora, seguo te. Vedi, madonna. Stai, c'era la patata. Gabri, attento. Ok, e dove? No, Gabri, no. Ma infatti, ma cosa sta facendo? Gabri, ma hai capito cosa devi fare? Sto cercando di bloccarla, ma non va. Sì. Oddio. No. Ma non ce lo credo. Organti, quella papparò, papparò, papparò. Io non so. Beh, ah, sì, dalla macchinetta, tipo, no. Sì. Angelo era dietro, madonna, all'angolo. No, non è possibile. Niente, tunisiani, finisce così il video. Abbiamo provato a fare questo bellissimo finale segreto, ma non ce l'abbiamo fatta. È giusto a mettere le sconfitte quando c'è da metterle. Gabri è andato alla fine del video, Angelo non si sente perché si è dovuto muotare. Questo video è un disastro, quindi è niente. No, esatto. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, tunisiani. Ciao.